Ed inizio con la base, applico il Tan Couture Balm di Givenchy sul viso e sul blog prossimamente pubblicherò la review. Su arcata sopraccigliare a angoli interno stendo l'ombretto di Pupa Stay Gold numero 002. Sulla palpebra mobile applico l'ombretto in polvere Nude Beam di Too Faced. Questo è l'ombretto opaco 24 ore Velvet di Deborah numero 65. Lo applico nella piega dell'occhio vicino all'angolo esterno. Di Deborah è anche l'eyeliner puro nella versione marrone. La matita nera in gel è una novità di Maybelline, si chiama Master Precise Skinny. Il mascara è uno dei miei preferiti e trasformista di Diego Dalla Palma. Applico le ciglia finte che sono di MAC. E riempio le sopracciglia con il kit How to Make Brows Wow di Essence. Il fard è di Collistar ed è il numero 20 Rosa Giulietta. Come illuminante sullo zigomo picchietta un po' dell'ombretto di Pupa che ho usato all'inizio. La matita fucsia è di Pupa ed è la numero 401. Ed infine il rossetto è di Maybelline ed è il numero 20 dei Vivid Matte Liquid. E voilà! Spero che questo trucco vi sia piaciuto. Un bacio! Ciao!